ragazzi ragazze oggi sono andato in giro e ho trovato mentre ero live un cane in un recinto cioè recinto nemmeno privato un recinto abbandonato cioè una zona è una zona abbandonata e dentro questo recinto c'era questo cane non so un corso era tanto pubblicherò l'immagine nel video quindi la vedrete è un corso messo lì dentro e mi ha iniziato a abbaiare due abbaia fatto e io sono andato lì a vedere e piangeva il cane faceva se mi piangi così mi fai sta male era abbandonato o se no è stato rubato messo lì non lo so oppure non lo so è stato messo intanto in un recinto che non è un recinto ma è una un posto dove i cani dove le persone non ci devono entrare e sono mi sono recato lì dalla municipale che era accanto a noi e io ho detto guarda c'ho questo video hanno visto i cani hanno detto guarda che qui dentro primo i cani non ci può stare secondo cercheremo il proprietario io spero che il cane è stato scappato è entrato lì dentro è rimasto bloccato se è stato abbandonato io dico no all'abbandono sugli animali se è stato non lo so è magro magro non so neanche se è stato maltrattato per questo perché c'eva tutte 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 le lacrime quel cane quindi dirò anche no al maltrattamento sugli animali cioè no a queste cose sugli animali gli animali se non le volete non le dovete abbandonare le dovete dare andate dalla polizia municipale gli dite al limite io cane non non lo voglio più o io gatto non lo voglio più o qualsiasi animale io non lo voglio più e lo date alla polizia postale ci pensano loro per quello che ci devono fare comunque mi hanno detto che lo controllano con i chip se ce l'ha e provano a trovare il proprietario io spero che il proprietario non l'abbia abbandonato e spero che il proprietario se gli è scappato cane lo ritrovi e io dico comunque no al maltrattamento sugli animali no all'abbandono sugli animali e no a tutto sugli animali gli animali devono essere trattati con cura e se non volete un animale darlo a la polizia postale che lo manderà non so dove al canile o il canile darà affidamento a un'altra persona curateli cani curate noi cani curate gli animali tutti gli animali curateli e teneteli a modino perché gli animali sono quelli che sono sempre vicino a noi e anche loro hanno un cuore perché quando noi non ci siamo più i cani o gli animali li manchiamo perché io ho visto certe persone che purtroppo non ci sono più e i suoi cani sono andati con loro perché non ce l'hanno fatta a rimanere in vita perché non vedevano più padrone quindi gli animali sono meglio di noi esseri umani capito bisogna trattarli con cura noi persone questo è tutto da nico livorno spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like e diffondetelo speriamo bene e comunque ciao a tutti da nico livorno